Puntuale è arrivata la conferma. Il 3 a 2 finale non rende merito e giustizia ai calabresi, protagonisti di una gara maiuscola autoritaria. E' stata una gara vincente, ricca di emozioni, davvero uno spettacolo inconsueto per le platee della Serie C. Botta e risposta quasi in apertura nel giro di appena due minuti. Palanca prima, gol di rapina alla sua maniera, scarnecchia dopo, perfetta la girata di testa dell'ex romanista. Catanzaro di nuovo in vantaggio al dodicesimo della ripresa con Caramelli. Caramelli, Barletta pronto all'appuntamento con il pareggio, quattro minuti dopo con Pesce. Quasi involontaria, si fa per dire, la sua deviazione evidente. La rete del 3 a 2 ad un quarto d'ora dalla fine, autore Cozzella su preciso assist di Bagnato.